Il mio fratello è morto in condizioni di arrepi, il mio fratello aveva solo un processo e questo processo è stato massacrato da tutto questo. Io adesso intendo denunciare, denunciare, denunciare come faccio da 5 anni. Per 5 anni ho attaccato il lavoro della nostra strada di Roma, oggi il lavoro dei pubblici ministri è sotto gli obiettivi, con quelle due sentenze non lo dimentichiamo mai, assoluzione per insufficienza di loro. Non è il mio fratello, non è il fratello del mio avvocato, è il fratello della nostra strada. E comunque le persone, le persone comuni hanno capito, tutti sanno che tutti hanno capito.